Buongiorno a tutti, io sono Fulio Capozzi e sono il direttore di Studios Academy, centro di formazione certificato Steinberg per tecnici del suono, oppure possiamo dirlo in senso più lato per tecnici del mondo dello spettacolo. I nostri allievi in un corso di 18 mesi si preparano per una migliore professione in studi di registrazione, contesti live, teatri, navi da crociera. Insomma, i nostri allievi vengono sistemati nei contesti migliori, quindi riescono a lavorare in contesti molto professionali, avendo molto da raccontare. Consiglio questo corso di 18 mesi che inizia, come vedete qua sotto in sovraimpressione, in questa data, a presto. 18 mesi per diventare un professionista.